C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno notò un piccolo neonato tra i cespugli. Questo bambino è un umano, disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano la tigre Serkan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. Da ora in poi lo chiameremo Mowgli, disse mamma lupa. Da quel giorno Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, Lady Grasher Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Baghera si incontrarono per parlare di Mowgli. I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Baghera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Baghera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla. Egli parlò di Mowgli. Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla. Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò... Doveva raggiungere Baloo e Baghera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chill che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chill immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo. Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Baghera che sono stato rapito! Ma certo, Mowgli! rispose l'avvoltoio Chill e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Baghera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse Adesso andiamo! Baghera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Baghera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Baghera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua. Baghera corri e salta nell'acqua! Baghera corse e salto dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Panderlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da sola. E Baghera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giunglia profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Baghera uscì fuori dall'acqua. Mugli urlò dalla torre dove era intrappolato. Sono qui, intrappolato nella torre! Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mugli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore. Tutto ok, Mugli? Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi, grazie dal profondo del mio cuore. Mugli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte. Ti devo tutta la mia vita, Ka, grazie mille. Mugli, Baloo e Baghera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Sherkanna realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mugli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mugli al bambino che aveva al suo fianco. Mugli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Baghera e Ka li stavano guardando. D'ora in poi starei sempre con loro. Quando avrai bisogno di noi... Conossi le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio caro Mugli. I suoi cari amici dissero così addio a Mugli. Mugli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia. Ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla. C'era una volta una bambina di nome Ivy. A causa della morte dei suoi genitori era sua zia a prendersi cura di lei. Ma un giorno la zia portò Ivy nel rifugio di suo nonno sulle montagne. Nonno Alm era un vecchio un po' scontroso che viveva in un piccolo rifugio sulle Alpi. Era la prima volta che Ivy viveva il suo nonno. Dicendogli che aveva trovato lavoro in un'altra città, la zia lasciò Ivy con suo nonno e tornò in città. Nonno Alm, che era abituato a vivere isolato, lontano dalle persone, in realtà era felice che sua nipote fosse di con lui, ma non lo dimostrava ad Ivy. L'uomo preparò un letto carino e confortevole per Ivy nella mansanta. A Ivy era piaciuto molto suo nonno già a prima vista e tempi felici stavano iniziando per lei fra le montagne. Quando si svegliò la mattina, conombe Joseph, l'enorme cane del nonno. Ivy amava Joseph. Poi, un giorno, mentre camminava sulle colline, incontrò Peter, un giovane pastore che pascolava le pecore nei prati. Non ti ho mai vista da queste parti. Già, sono appena arrivata. Vivrò qui con mio nonno d'ora in poi. Nei giorni seguenti, Peter cominciò a portare Ivy con sé nei prati a pascolare le pecore. Facevano delle escursioni in montagna insieme. Tutto era così nuovo ed eccitante per Ivy. Imparò molto da Peter su come essere un pastore. Anche se non lo dimostrava molto, nonno Alma amava davvero tanto a Ivy. Correndo in giro e divertendosi fra i campi tutto il giorno, Ivy era felice. Ma non dimenticò mai di aiutare suo nonno con i lavori di casa. E uno dei suoi preferiti era cuocere il pane nel forno a legna del nonno. Spesso portava il pane che aveva fatto alla nonna di Peter. E la nonna di Peter in cambio le dava al latte fresco di capra. Un giorno l'estate finì ed arrivò l'inverno. Quando Peter iniziò ad andare a scuola, Ivy restò da sola e spesso si annoiava. Era davvero delusa di essere troppo piccola per andare a scuola come Peter. Un giorno la zia di Ivy tornò a prendere Ivy per riportarla in città. Avrebbe avuto l'istruzione in casa e avrebbe lavorato. Il nonno fu molto arrabbiato e all'inizio non accettò. Ma poi, pensandoci, si reso conto che sarebbe stato meglio per Ivy stare in città ed imparare a leggere e scrivere. Ma io non me ne voglio andare via da qui! Io voglio bene al nonno! Si lamentò Ivy. Ma si convinse dopo che la zia le promise che sarebbe tornata in montagna dopo poco tempo. Ivy e sua zia arrivarono ad una grande villa dopo un lungo viaggio in treno. Wow! Che casa grande! Io starò qui! Ivy incontrò Clara, la bambina che viveva nella casa. Clara non poteva camminare a causa di un incidente che aveva avuto da piccola. In realtà la zia aveva portato Ivy in quella casa anche per fare compagnia a Clara. Clara e Ivy andavano molto d'accordo e diventarono subito migliori amiche. Non sapendo molto della vita di città, Ivy faceva ridere Clara quando commetteva sciocchi errori. La nonna di Clara era una donna molto rigida e severa. Alzati pigrona! È ora di studiare! Hai ancora tante cose da imparare? La nonna di Clara cercava di insegnare ad Ivy molte cose. Ad esempio come sedersi in modo appropriato e come usare il coltello e la forchetta a cena. E Ivy si vestiva addirittura come una bambina di città, ma non si sentiva a proprio agio con quei vestiti. Anche Clara aiutò Ivy ad imparare a leggere e scrivere. Ad Ivy piaceva molto stare lì con Clara, ma le mancavano troppo le montagne e il suo nonna. Ivy non riusciva nemmeno a mangiare per quanto era triste. Il suo cuore era pieno di desiderio. Il padre e la nonna di Clara si resero conto della tristezza di Ivy e dopo un po' decisero di rimandarla da sua nonna. Ma Clara era molto triste per la partenza di Ivy. Amare davvero qualcuno significa volere la sua felicità! Disse la nonna. Infine giunse il momento di dirsi addio. Quando Ivy stava per partire, sua zia le disse che Clara sarebbe andata a farle visita in montagna all'anno seguente. Ivy fu così felice di tornare in montagna. Per prima cosa si fermò a casa di Peter sulla via di casa e diede alla nonna di Peter il pane che Clara le aveva mandato. lasciando gli abiti di città, corse a casa ed abbracciò il nonno più fatte che poteva. Ed erano di nuovo felici. Un po' di tempo dopo, Ivy era felicissima della lettera che aveva ricevuto che riceveva che Clara sarebbe venuta a trovarla presto. Quando arrivò nelle Alpi, a Clara piacque molto Peter, ma lui era poesitante perché aveva paura che Ivy sarebbe tornata in città con Clara. Clara, Peter e Ivy si stavano divertendo un mondo sulle colline. L'aria fresca di montagna e di cibi naturali erano molto buoni per Clara. Ma Peter diventò molto geloso di Ivy per la sua bella amicizia con Clara. A Peter non piaceva nemmeno dover portare Clara con la sedia a rotelle e spingerla in giro. Un giorno, spinse la sedia di Clara giù per una collina. Pensando che questo avrebbe risolto tutto. Senza la sua sedia a rotelle e con l'aria fresca di montagna, Clara era diventata molto più forte e iniziava anche a camminare lentamente con l'aiuto di Ivy. Dopo un po', iniziò a fare piccoli passi senza l'aiuto di nessuno. Riesco a camminare! Heidi! È solo grazie a te! Un giorno, il padre e la nonna di Clara vennero in visita. E quando videro Clara camminare, non credevano ai loro occhi. Ringraziarono nonno Al e altri. In quel momento, Peter si sentì molto dispiaciuto per ciò che aveva fatto. Confessò di aver spinto la sedia di Clara dalla collina. Chiedo scusa a tutti quanti voi. Quello che ho fatto è stato brutto. Ti perdoniamo. Anche se hai sbagliato, ora lei cammina. Questo è l'importante. Tutti risero con gioia. Clara e la sua famiglia promissero che sarebbero tornati l'estate seguente. E vissero tutti felici e contenti. Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si rispiava nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo. Proprio il ceppo che stavo cercando. Farò una bellissima marionetta. Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo. Oh mamma mia, sento le voci. Devo essere proprio diventato vecchio. Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta. Poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La misi a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce. Ciao! Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire. Sotto cielo! Questa marionetta è viva! Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia. D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio. Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata. Non puoi entrare se non paghi! Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola. Ma io ho dei soldi! Presi i soldi dalle sue tasche e li dia del pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone. Ehi, anche loro sono fatti di legno! Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo che stava sopra il palco e comandava i fili delle marionette fu molto contento di vedere una marionetta vivente. Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco! Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò. Ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime. Ma non ha soldi, come farò ad andare a scuola ora? La fata recitò un incantesimo ed i soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola. Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto taglierono la strada a Pinocchio. E fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio. Dove stai andando così felice, amico mio? Sto andando a comprare i quaderni per la scuola. Questi soldi non saranno abbastanza allora. Se farai come ti diciamo avrai molti più soldi. Cosa dovrei fare? Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico. E così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai. L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi Pinocchio. Oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente. Ho comprato quaderni e matite e ma li ho lasciati a scuola. Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine non riusciva nemmeno a muovere la testa. Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no! Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridò dei soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagno asciuga. Ehi, che succede? Dove sono? Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno, ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo. Pinocchio! Pinocchio! Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poteva rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente. Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato! Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime. Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio! Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai! Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e le condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato! Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre. Papà, guardami! Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice. Incredibile! Ma sei un bambino vero adesso! Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era.